Sul sito del Comune di Battipaglia è stata resa nota la procedura aperta relativa all'appalto del PON Legalità 2014-2020, POR FESER Campania 2014-2020, asse 3 inerente a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati. La presentazione della gara d'appalto è prevista per venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 12. I lavori dovranno essere effettuati in un terreno confiscato alla criminalità in nove mesi. In pratica il progetto è volto all'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania. Si realizzeranno nel concreto laboratori didattici in cui svolgere attività formative extracurriculari. La struttura prevede appena dentro tre laboratori, trasformazione di prodotti a chilometro zero, pasticceria artigianale, cucina per la cottura pasti per le menze scolastiche. Al primo piano, invece, educazione alimentare e valorizzazione dei prodotti tipici. Inoltre, spazi anche per i più piccoli all'esterno dell'edificio. L'importo di spesa posta a base d'asta è di 877 mila euro circa, suddivisi in base alle esigenze per la realizzazione degli edifici, impianti di tecnologia, termici, riscaldamento, elettrici, telefonici, idrici, sanitari, cucine e lavanderie. L'importo di spesa